40 milioni di euro. Questa la perdita stimata da Federalberghi per il periodo di festa in arrivo. Si aggrava il bilancio del settore turistico, già in rosso nel 2020. L'incubo sembra ritornare, albergatori e ristoratori speravano di non replicare i dati dell'anno scorso, quando il calo delle presenze e degli arrivi tra marzo e aprile aveva raggiunto picchi del 99%. Stanco di chiusure e riaperture, il mondo del turismo rimane fermo, sperando di ripartire nella stagione estiva. A contare sulla ripresa dei flussi estivi è l'intera Umbria, ma soprattutto il comprensorio del Trasimeno, che da solo l'anno scorso aveva registrato il 17% delle presenze. Michele Benemio, presidente del consorzio che riunisce i ristoratori e gli albergatori del Trasimeno, vuole avere fiducia nella stagione in arrivo. Ci aspettiamo un'annata ancora difficile, però siamo pronti per cercare di mettere in campo tutte le attività possibili per attrarre i turisti. Il lago Trasimeno, peraltro, è un luogo che riesce a conciliare distanziamento e divertimento. Il posto naturale, sempre, ma soprattutto in questo momento, per riappacificarsi un pochino con la natura e respirare un pochino di aria, di quello che abbiamo bisogno tutti dopo un anno di chiusure forzate.